Ci sono periodi. La voce interiore attraverso Roberta S. Sabaudia. Guide. Potete fare un'altra domanda. Domanda. Ci sono periodi però che sono più difficili, forse perché fisicamente uno non si trova bene, ha qualche problema fisico in più e quindi non riesce a reagire al contorno, alla famiglia in maniera positiva, ma vive immerso in un'agitazione costante. Cosa fare in questi momenti? Risposta. E la pace che dovete trovare è smettere la guerra con tutto quello che non vi piace. Combattere i propri mali significa aumentarli e più vi ostinate a volerli curare più vi accorgete che non c'è cura, perché state cercando di curarvi dal vostro malessere interiore e vorreste curarvi con le medicine o seguendo delle tecniche, addirittura facendo meditazione, ma vi diciamo che non sarà così che vi potrete curare. La cura è quella che parte dal vostro amore per quello che vivete, per quello che siete. Imparando a guardare i vostri pensieri vi accorgerete pure di quanto quei pensieri molto spesso non siano i vostri e quanto influiscano i vostri pensieri sul vostro malessere. La vostra idea che debba stare tutto bene e tutto filare liscio per poter ritrovare l'armonia è alla base della vostra insicurezza. Vi siete messi in testa che se siete sulla giusta strada va tutto bene, ma non è così, perché in realtà va sempre tutto bene e noi questo ve lo diciamo da tanto tempo. Quello che vi sembra andar male sono i cambiamenti che la vita vi propone che voi non accettate. Nella tua esistenza, ad esempio, credi di aver accettato alcune situazioni del passato che in realtà sono ancora bloccate tra il tuo stomaco e il tuo intestino ed è lì che devi imparare a lasciar fluire ciò che non ti piace.